C'è una cosa che non vi ho ancora comunicato, ma che il pubblico sapeva fin dall'inizio. Il più votato del televoto flash è stato Baru. E questo significa, Baru, che il pubblico ti è eletto quarto finalista! Grazie, grazie mille, grazie. Sei contento? Sono molto contento, non voglio risultare. Te l'aspettavi? No, contro Jessica no, contro Giucas sì. Hai capito? Però tu dici contro Jessica no, contro Giucas sì, ma è anche vero che Jessica e Giucas non sanno che succederà. Come sapete, Jessica e Giucas, l'ultima parola è sempre quella del nostro pubblico sovrano. E l'ultimo posto in finale, perché ce n'è ancora uno, ve lo dovrete giocare con l'ultima sfida al televoto. E l'ultimo posto in finale, perché ce n'è ancora uno, ve lo dovrete giocare con l'ultima sfida al nostro pubblico.